Buongiorno a tutti e benvenuti alla quarta parte, sotto parte B. Fino adesso abbiamo visto la parte, sostanzialmente, la parte 1, 2, 3, l'epilogo, e poi abbiamo visto nella quarta A, quindi questa che abbiamo appena completato, a parte la soluzione dell'esercizio precedente, qualcosa sul copyright, qualcosa sul raspberry, e poi in generale alcune cose di configurazione abbiamo installato del materiale ancora sotto Linux e quant'altro. Quello che ci manca è questa parte qua, quindi sostanzialmente andare a vedere i programmi che avevamo realizzato per il raspberry con in C e in python. Ovviamente lo scopo di questo corso di azzeramento non è quello di insegnare il C o il python, e quindi noi ci limiteremo semplicemente a vedere dei programmi che sono già fatti, semplicemente andando più che altro a vedere le differenze e sottolineando i punti principali, perché poi ovviamente voi nel corso vedrete l'opportuno linguaggio di programmazione e poi naturalmente per approfondire non avete problemi, nel senso che basta andare su internet e si possono trovare degli ottimi tutorial. Bene, quindi allora sostanzialmente adesso siamo nella parte 4b, per cui possiamo ricominciare, quindi in questa parte usiamo praticamente soltanto Linux, ok? Allora se vi ricordate l'avevamo per così dire addormentato, messo in pausa, per cui lo possiamo risvegliare e vedete che lui ovviamente è tornato esattamente come era prima. Bene, allora l'ultima cosa che avevamo fatto era smontare la chiavetta USB, però attenzione, noi avevamo effettuato la mount, ma non avevamo tolto la chiavetta fisicamente, ok? Allora vediamo che cosa succede, allora qui noi non l'abbiamo ancora, di fatto quando voi fate mount dovete poi toglierla fisicamente la chiavetta, ma il problema è che questa è una macchina virtuale e quindi avete bisogno dell'ok per toglierla fisicamente, allora facciamo come abbiamo visto prima, togliamo la modalità scalata per un attimo, facciamo così e a questo punto, vedete, noi facciamo in questa maniera, e a questo punto la chiavetta è libera, ok? Ora il fatto che sia libera di qua significa che se l'è ripresa il Macintosh, ok? Quindi se vogliamo veramente toglierla, la chiavetta è libera fisicamente, dobbiamo smontarla anche dal Macintosh, facciamo così, a questo punto sparisce, qui non è agganciata in modo virtuale, però è come se fosse agganciata in modo fisico, qui neppure, per cui a questo punto noi possiamo veramente togliere la chiavetta senza ulteriori difficoltà, ok? Quindi adesso noi lo mettiamo di nuovo in modalità scalata, così riusciamo a vedere meglio quello che dobbiamo fare, ok? Quindi a questo punto, la chiavetta in realtà a questo punto non ci serve più, quindi andiamo sul desktop e poi andiamo dentro a materiale, cd desktop, cd materiale, poi per esempio qui sulla sinistra andiamo nella directory, vedete che c'è una directory con c, una col c++ che ci servirà nella quinta parte, poi queste sono le slide, e poi una directory con python e una con snap, ok? Quindi adesso io direi di mettere qui nel tab a sinistra, andiamo dentro la directory C, e così abbiamo una sottodirectory per ciascuno dei programmi, invece nel tab a destra, c'eravamo già qua, e quindi andiamo su python, e così abbiamo il nostro programma, ok? Tutti una directory per ciascuno, notate che qui ci sono anche delle directory che serviranno la prossima volta, perché io ho già preparato il materiale. Bene, allora, a questo punto a me quello che interessa è farvi vedere il funzionamento, diciamo, a grandi linee di tutto quanto, in modo tale da farvi capire come si realizza un programma, ok? L'avevamo già visto, l'abbiamo visto in snap, però adesso è il momento di vederlo anche in C e in python, molto rapidamente, è ben inteso. Bene, allora, quindi andiamo a prendere ad esempio un programma, allora, ci sarebbe il programma base, ok? Però è veramente molto semplice, l'avevamo già visto a suo tempo, quindi lasciamolo stare, e andiamo invece sul programma dei numeri primi, comunque lì c'è, se lo volete. Quindi adesso noi per esempio, facciamo nano, numeri primi, sto usando nano anche se potrei fare cut o more, perché in questo modo ho la sintassi colorata, vedete? In pratica nano si accorge che questo è un file C e quindi provvede a colorare in modo opportuno le cose, che se pensate, ci pensate una bella comodità, ok? Per esempio le parole chiave le colora in giallo, le dichiarazioni variabili in verde, ok? Le stringhe anche esse in giallo, i commenti in azzurro e così via. Bene, andiamo a vedere su Python, stessa cosa, cd numeri primi, nano, numeri primi, vedete che il programma è molto più corto, per due motivi, primo perché intrinsecamente Python genera programmi più corti, secondo perché qui ci sono molti meno commenti, se voi andate a vedere qua, io ho messo tantissimi commenti per spiegare il funzionamento, ok? E qua invece non ci sono, perché era inutile ovviamente replicarli, sono gli stessi commenti. Ora, a questo punto di qua, invece, carichiamo il programma, vedete che noi siamo, ecco, materiale azzuramento, qui invece ovviamente andiamo in Snap, si chiama numeri primi, vedete che è un punto XML, perché l'abbiamo esportato in quella maniera, eccolo qua, ok? La visibilità non è eccezionale, però si dovrebbe vedere anche nel filmato, perché ho provato e si dovrebbe vedere anche nel filmato. Ora, prima di confrontarlo, volevo però farvi vedere qual è il modello di funzionamento di tutto ciò, ok? Allora, qui usciamo di qua, poi usciamo anche di qua, ok? E andiamo a vedere il modello di funzionamento di tutto ciò, ok? Quindi, andiamo qua, andiamo sulla, ecco qui, qui ho messo un foglio che contiene quello che ci serve. Allora, qui noi abbiamo sulla sinistra i linguaggi compilati, per esempio il C. Sulla destra i linguaggi interpretati, per esempio Python, ma ce ne sono anche altri, sia qua ovviamente, molti altri, sia qua che qua, ok? Ora, se io voglio scrivere un programma in C, cosa devo fare? Devo prendere un editor, per esempio Nano, e scrivere il file C, ok? E quindi avrò una fase di editing. Dopodiché, una volta ottenuto il file C, lo devo compilare. Allora, devo usare un compilatore, ci sono vari compilatori, quello sicuramente più diffuso, anche sotto Windows, è questo, in realtà ovviamente c'è anche quello Microsoft, però, questo compilatore. Con questa linea di comando, io cosa faccio? Compilo, G sta per GNU, e poi CC sta per C compile, cioè compilatore C, quindi compilatore C della GNU, la GNU è un'organizzazione che, il cui scopo è sostanzialmente quello di realizzare software libero, nell'accezione che avevamo visto prima, ok? Poi, file.c, che è il nome del file che abbiamo generato qua, e poi meno O sta per output, cioè genera un file che si chiama file.out, come uscita. Notate che fino adesso noi avevamo visto dei file di uscita chiamati a.out, ma insomma, con l'opzione meno O gli potete dire il nome del file, dettagli. Ok? Quindi questa per il momento la lasciamo stare. quindi compilazione più linking, qui io li ho messi tutti e due assieme, ma in realtà sono su due sottofasi, per cui questo file.c viene compilato, e poi viene linkato, cioè unito, alle librerie, perché in alcuni casi potrebbero servire delle librerie aggiuntive, per esempio la libreria matematica, ok? Oppure anche solo la libreria di standard input-output. Queste due operazioni il GCC le fa assieme, in modo automatico, volendo si possono separare, ma le fa di solito assieme. Però sono due operazioni logicamente distinte. Per esempio, se io avessi un progetto tipo il Firefox, tanto per fare il solito esempio, avrei tantissimi file. Allora io non posso compilarli, a parte il fatto che non li posso compilare uno a uno, però indipendentemente da questo, io comunque avrei il problema che, vorrei, li compilo uno per uno anche volendo, però poi assieme li devo linkare, perché l'eseguibile, cioè devo unirli, perché l'eseguibile del Firefox è uno solo, e quindi la fase di linking è quella successiva. Dopodiché, una volta fatto l'editing, quindi prima fase, seconda fase compilazione più linking, terza fase esecuzione, noi qui normalmente scrivevamo punto slash a punto out, qui sarebbe punto slash file punto out, ma notate che questi nomi li decidete come volete, ok? Quindi la trafila è editing, compilazione, linking, esecuzione, fine, ok? Da qua, volendo, mettendo questo flag aggiuntivo meno g, si può avere il cosiddetto debug, per cui l'esecuzione, anziché essere fatta in questa maniera, viene fatta in debug, con la stessa sintassi. a questo punto, l'esecuzione in debug, che richiede però l'apposito debugger, che si chiama GDB, dove GDB sta per New Debugger, notate cosa vuol dire debugger, questo è il solito aneddoto che si racconta, pare che i primi computer, siccome erano grandi, molto grandi, erano affetti da problemi pratici, per cui sembra che ci fossero insetti, antitopi e quant'altro, che danneggiassero fisicamente il computer, e quindi debug significa togliere i bug, cioè gli insetti, ok? Comunque vabbè, quindi in realtà sono gli errori di programmazione, sono quelli che avevamo visto a suo tempo, diciamo uno ogni mille linee di codice, grosso modo. Ora, quindi l'esecuzione in debugger richiede il GDB, ed è alternativa, tenete conto che durante il corso, voi di solito farete l'esecuzione in debugger, perché è comoda per trovare gli eventuali errori, e poi, a valle di tutto questo, c'è il profiling, che di solito non viene visto, nel corso per esempio non lo vedrete, però io ve lo voglio accennare, il profiling serve, e si fa con un oggetto che si chiama GPROF, stiamo sempre parlando della suite di programmi della GNU, perché naturalmente ci sono anche programmi commerciali, che fanno la stessa cosa, e GPROF sta per il GNU Profiler, e il profiler serve, l'ho messo un fumetto un po' diverso, perché serve a vedere come il vostro programma si comporta, dal punto di vista delle prestazioni, per esempio, se ci sono varie funzioni, chi esegue cosa, e quanta CPU richiede una, con il profiler si possono tenere risultati incredibili, in termini di miglioramento delle prestazioni, però non è di certo un nostro problema qua, ok? Bene, linguaggi interpretati, allora voi avete l'editing, e generate un file, chiamato, file.py, per esempio per il Python, ok? Dopodiché semplicemente lo eseguite tramite un interprete, scrivete Python, o Python 3, o quello che è, file.py, e lui lo esegue, ok? Più semplice, allora qual è la differenza? La differenza è che il passo di compilazione, genera un file eseguibile una volta per tutte, ok? Quindi questo significa che quando voi lo eseguite, questo va molto veloce, perché è compilato, e il risultato della compilazione è codice assembly, quello che abbiamo visto in due parole sul Raspberry, ok? Ovviamente molto più complesso. E va alla massima velocità della macchina, o quasi, ok? In questo caso non funziona così, perché il file Python viene tutte le volte riletto, è come se ogni volta che voi lo lanciate, lui dovesse reinterpretarsi, anzi, capita così, se lo deve reinterpretare ogni volta, cosa che naturalmente rallenta l'esecuzione. Ci sono poi delle scorciatoie per velocizzare il tutto, eccetera, eccetera, ma di nuovo non entriamo nei dettagli, ok? Bene, allora, questo è quello che noi vedremo, ma, ma, voi capite che tutti questi passi, se voi realizzate un programma, sono correlati tra di loro. Ebbene, nel riquadro verde, c'è tutto quello che è in grado di fare il codeblocks. Quindi il codeblocks è un cosiddetto IDE, cioè Integrated Development Environment, cioè un ambiente di esecuzione, di controllo, di sviluppo, che è in grado di fare tutto. Per cui, se voi avete il codeblocks, avete un editor, il sistema per lanciare il compilatore, il linker, l'esecuzione, e anche l'esecuzione del bug, e perfino il profile, tutto assieme, ok? Stessa cosa sotto Python, ok? Ci sono numerosissimi ambienti di sviluppo, uno che, secondo me, è abbastanza carino, è questo, Jupiter, scritto più o meno come il pianeta, c'è solo una Y qua, che è tecnicamente chiamato Notebook, quindi una specie di quadrano di appunti, ed è simile, ok? Nel senso che permette di gestire tutto, l'editing e tutto quanto. In realtà non è proprio così, ma comunque chi di voi avrà modo di vederlo, in futuro capirà che, insomma, non è troppo sbagliata questa, questo disegnino, ok? Quindi adesso la prima cosa che farei è vedere questa trafila, lasciamo perdere il debug, facciamo la trafila principale, ok? qui è andato in standby, eccoci qua, allora, qui siamo dentro al C, vedete che qui noi abbiamo il nostro file, il file sorgente, allora, se ci fate caso, qui c'è anche un file eseguibile, appunto, out, da dove arriva? Arriva dal fatto che è il file, qua, appunto, zip, è un file che ovviamente contiene anche gli eseguibili, perché io li ho testati, i vari programmi, e questo file eseguibile è stato realizzato sul Macintosh, il processore è lo stesso, non è il processore del Raspberry che è un Intel, ma se io provo a fare così, vedete che mi dice, cannot execute binary file exec format error, cioè, il file eseguibile non è eseguibile sul Linux, ok? Quindi significa che quel file è stato compilato, ma funziona solo sul Macintosh, quindi non funziona su Linux, non funziona su Windows, per quanto il processore sia lo stesso, ovviamente non funzionerebbe nemmeno sul Raspberry, quindi se io voglio eseguire questo programma, lo devo ricompilare, allora, facciamo come dicevamo, lo avevamo visto lì, ok? Quindi facciamo numeri primi, e poi seguiamo le istruzioni di quel foglio, e ci scriviamo numeri, facciamo così, numeri.out, via, facciamo, abbreviamo la faccenda, ok? A posto. Adesso a questo punto abbiamo l'eseguibile, se io faccio numeri.out, lui parte, per esempio, inserire il numero maggiore di 1, se io gli metto 1, lui insiste, me ne chiede un altro, metto 3, mi dice sì, il numero è primo, ok? Benissimo, quindi noi abbiamo effettuato tutta la trafila, quindi abbiamo realizzato con Nano, con un altro programma, l'editing, e poi l'abbiamo compilato con il gcc, e poi l'abbiamo lanciato, fine, ok? Bene, allora, cosa facciamo a questo punto? Proviamo a vedere la stessa cosa, siccome vi ho detto che il codeblocks fa tutto, proviamo a vederlo con il codeblocks, allora, lanciamo il codeblocks, l'avevamo installato appositamente, lo lancio in background, in modo tale che non mi occupi il terminale, vedete che adesso questi sono tutti messaggi, ma non sono un problema, bene, allora, qui facciamo così, lo rimpiccioliamo un pochetto, notate che questo era il primo punto cpp, che avevamo realizzato prima, ma adesso possiamo, vedete se voi cliccate qua, se lo carica, bene, adesso vedete che qua in realtà non c'è nessun problema, adesso io cosa voglio fare? Voglio scrivere, perché vedete che il codeblocks, notate che se io vado qua e poi faccio, schiaccio il tasto control e poi con due dita vado su sostanzialmente, me lo ingrandisce un pochettino, se no me lo riduce un pochetto, va bene? Il codeblocks funziona nella stessa maniera sotto Windows, sotto Linux e ovviamente sotto Macintosh, tenete anche presente che nella prossima puntata, qui no perché non abbiamo Windows, nella prossima puntata vi farò anche vedere l'uso del codeblocks sotto Windows, non perché sia diverso, ma soltanto perché vorrei farvi vedere alcuni problemini che capitano sempre tutti gli anni, perché naturalmente avendo due o trecento persone c'è una casistica di problemi, e io vorrei mostrarvi questa casistica, in modo tale che voi possiate in caso di difficoltà, già applicare questa casistica, secondo me applicando correttamente questi rimedi sulla casistica che io ho, che tutti i vari docenti dei corsi hanno, si toglie secondo me un buon 95-98% dei problemi, perché sono quasi sempre gli stessi, ok? Ora, in realtà il codeblocks è abbastanza affidabile, ha questi problemi strani che però per fortuna sono sempre gli stessi. Allora, prendiamo il file, io cosa devo fare? Devo prendere, devo editare il file, è come se mi dovessi mettere qua, perché questo è l'editor, è come se mi dovessi mettere qua e dovessi compilare il, questo qua vedete, il .c, è come se dovessi compilare, dovessi scriverlo a mano, però io non lo voglio scrivere a mano, lo voglio copiare, e quindi cosa faccio? Faccio mor, numeri primi, punto c, ok? E adesso andiamo qua, facciamo copia e incolla, ok? Quindi copiamo sostanzialmente fino alla fine di questa linea, divisore, ok? Poi faccio tasto destro, ecco qua, copy, poi vado qua, cancello quello che c'è, perché non mi serve, e poi faccio, scusate, lo devo fare di qua, faccio edit, paste, ok? Quindi vedete che così, ho copiato il pezzo di codice, fino a questa riga, mi manca il resto, ok? Quindi l'avevo copiato fino a questa riga, allora, facciamo, ok, quindi devo copiare sostanzialmente da qui, fino a qua, quindi tasto destro, copy, poi vado qua, vado a capo, e poi faccio, paste, bene, notate che non ho fatto niente di speciale, come se l'avessi scritto a mano, ok? Chiaramente è più comodo, adesso io qua faccio, salva tutto, salva tutti i file, ok? Notate che noi stiamo sovrascrivendo il progetto, cosiddetto primo, ok? Però non ci importa, tenete presente che se volete, naturalmente avete sempre il file .zip con tutto dentro, ok? Bene, qui noi abbiamo il nostro programma, bene, a questo punto, noi abbiamo il nostro programma, proviamo a compilarlo, vedete che vi ho detto che il codeblocks è in grado di fare tutto, tutto assieme, il fatto è che lui riesce a fare la compilazione solo se ha anche il compilatore, ora, in questo caso ce l'ha, nessun problema, ma, per esempio, vi avevo detto sotto Windows, quando scaricate il codeblocks, dovete scaricare la versione con il compilatore, perché altrimenti non è il compilatore, quindi questo pezzo non riesce a farlo, perché il codeblocks vi nasconde, per così dire, i problemi, nel senso che pigiando alcuni tasti, voi riuscite a fare tutto, ma in realtà sotto, c'è il sistema operativo, esattamente come quello normale, quindi se io faccio build, vedete che lui mi dice, zero errori, zero warning, tutto a posto, ok? proviamo a lanciarlo, run, e vedete che, io qua lo ingrandisco un po', vedete, inserire il numero prima da controllare, se io ci metto uno, lui insiste perché è sbagliato, ci metto 13, mi dice che il numero è primo, poi mi dice press enter to continue, se io premo enter, sparisce la finestra, ok? Quindi ha funzionato, quindi questa è la catena, ma come vi dicevo, se adesso noi torniamo alla nostra, slide, ecco qua, allora, noi abbiamo testato, questa catena di compilazione, e l'abbiamo testata nel codeblocks, allora c'è però quest'altra catena di compilazione, che è molto importante, nel corso, e si può fare a mano, quindi facendo tutta questa trafila, ma noi la facciamo soltanto col codeblocks, perché è più facile, ok? Il profiler non lo vediamo proprio, allora, andiamo qua, bene, cosa vuol dire debugger? Significa che voi, vi ripeto, vi ricordo, che un programma è fatto da un insieme di istruzioni, queste istruzioni vengono eseguite una dopo l'altra, ok? vedete? In modo sequenziale, l'unico caso in cui non vengono eseguite in modo sequenziale, è quando per esempio ci sono dei cicli, perché quindi viene eseguita questa, poi questa, poi questa, poi di nuovo questa, poi di nuovo questa, fino a quando questa condizione è insoddisfatta, allora continuo, e poi anche, se ci sono degli if, quindi per esempio, queste due righe vengono eseguite solo se questa condizione è corretta, perché altrimenti non vengono eseguite, ok? Però in generale il flusso è molto sequenziale, allora, se io voglio, questo naturalmente per programmi standard, che è quelli che vedremo noi, ora, supponiamo di voler vedere questo oggetto in funzione, ok? Noi non l'abbiamo visto in funzione, l'abbiamo visto funzionare nel suo complesso, e funzionava bene, ma se io voglio debaggarlo, cioè voglio essere sicuro che funzioni, verificare bene che funzioni, ho a disposizione il debugger, cosa significa? Significa che io devo andare a mettere, vedete qui, un semplice click con il mouse, tasto classico sinistro, e mi compare un puntino rosso, non lo posso mettere sulle linee di dichiarazione delle variabili, lo devo mettere sulle istruzioni, per esempio la printf. Ora, se io lancio il programma, ma non lo lancio più con il tasto verde, lo lancio con il tasto rosso, vedete che c'è scritto debug continuo, cosa succede? Succede che lui parte, ok? Sì, questo va bene così, lui parte, ok? Vedete che qui lui è partito, non ha ancora stampato niente, ma è partito, tutto bene, ma in realtà non ha ancora fatto niente, vedete che qui c'è un pallino rosso, e sopra c'è un triangolino giallo, cosa vuol dire il triangolino giallo? Allora, il pallino rosso è appunto il breakpoint, cioè il punto di stop, il punto in cui io gli ho detto di fermarsi, lui è partito e si è fermato dal pallino rosso, i pallini rossi ne posso mettere a piacere mio, ovviamente devo metterli con un po' di buon senso. Il triangolino giallo mi indica dove in quel momento fermo il programma, perché si è fermato ovviamente sul breakpoint, notate che il triangolino giallo indica la prossima riga da eseguire, quindi in realtà in questo caso non è stato ancora eseguito nulla, la printf sarà la prima che verrà eseguita, ok? Bene, allora se io adesso, vedete che io qui ho altri pulsanti, lasciamo perdere questo, però ne ho uno che qui c'è scritto next line, allora se io premo questo, vedete cosa succede? Il triangolino, questo rimane fermo al suo posto naturalmente, il triangolino giallo si sposta di uno, vuol dire che la printf è stata eseguita, ok? Va bene, ok, adesso cosa facciamo? Andiamo avanti, quindi procediamo con questo, next line, e vedete che qui mi è sparito il triangolino giallo, che succede? Perché è sparito? È sparito perché, se voi andate a guardare qua, lui, in questo momento sta eseguendo la scanf, adesso noi non andiamo a capire cosa fa la scanf, è sostanzialmente un'istruzione di input, ma la sta eseguendo, cioè aspetta che io inserisca il numero, per esempio mettiamo 1, ok? Poi schiaccio enter, ora, quando io schiaccio enter, vedete cosa succede? Succede che lui è andato avanti, e mi è ricomparso il triangolino giallo, però alla riga successiva, ok? Ora, se io vado un po' giù di qualche riga, e io adesso vado avanti, vedete cosa succede? Vado a next line, next line significa, lui controlla se il numero è minore o uguale di 1, se il numero è minore o uguale di 1, entra qui dentro, ok? Quindi, numero in questo caso, naturalmente io posso anche vederle queste informazioni, per esempio, io qua ho debugging windows, e in particolar modo watches, io poi questa me la trascino giù, in questa maniera, poi questo lo allargo un pochetto, in modo tale che si capisca meglio, eccolo qua, vedete, numero, in questo caso è 1, ok? Perché l'abbiamo messo 1, quindi significa che, numero è uguale a 1, per cui entrerà all'interno, per cui proviamo, next line, vedete che lui è entrato all'interno, mi chiede di nuovo, stampa, sparisce di nuovo il triangolino giallo, perché c'è la scanf che chiede, io vado su, a questo punto gli metto un valore sensato, 5, ok? Bene, a questo punto sono qua, il ciclo while è ripartito, adesso numero quanto vale? 5, e quindi se io procedo in questa maniera, vedete che lui scavalcherà il ciclo while, quindi sto seguendo il flusso delle istruzioni, questo serve perché in questa maniera io posso verificare se il mio programma funziona o non funziona, adesso io cosa faccio? Assegno 2 a divisore, notate che questo è la stessa cosa che avveniva qua, attenzione, perché io qui sto seguendo pari passo, quello che avviene qui, vedete? Questo è un repeat until, notate che qui c'era scritto answer maggiore di 1, perché? Perché il repeat until si sbloccava quando la risposta era maggiore di 1, ma il while del C, ma anche del Python, si sblocca quando questo non è più vero, perché finché è vero lui continua, e quindi la condizione è diversa, ed è, se ci pensate, il duale, l'opposto, qui era maggiore di 1, qui è minore o uguale di 1, è esattamente l'opposto, la condizione duale, ok? Bene, dopodiché vedete che qua c'è scritto set divisore a 2, quindi significa divisore uguale a 2, no? E effettivamente qui ce l'abbiamo, divisore uguale a 2, poi qui abbiamo il numero primo, qua lo metto uguale a 1, perché qui c'è scritto, qui è tu sì, perché snap è più flessibile, per certi versi, ok? E va bene, quindi adesso vedete che divisore vale 0, adesso lo mandiamo avanti di 1, vedete che adesso divisore vale 2, qui in rosso, vi segna in rosso perché ha cambiato valore, ok? Poi facciamo diventare anche 1 il numero primo, che è questo qua, magari qui gli diamo un po' più di spazio, perfetto, ok, adesso questo lo spostiamo un po' più in là, andiamo giù, vi ricordo che il triangolino giallo indica l'istruzione che verrà eseguita come prossima, ora qui siamo al dunque, nel senso che questo è il nocciolo del programma, ok? Perché è quello che controlla, e vedete finisce qua, ok? While, divisore diverso da numero, se voi andate a guardare qua, c'è un repeat until, divisore uguale numero, perché la condizione è il contrario, perché questo è un repeat until, e qua è un while, perché il while dice, nel mentre divisore diverso da numero, fai questo, invece il repeat until è, ripeti quello che c'è all'interno, finché non si verifica questo, quindi le due condizioni devono essere l'opposto, ora l'opposto di divisore uguale numero, è chiaramente divisore diverso da numero, quindi procediamo, allora, divisore è 2, numero è 5, quindi divisore è sicuramente diverso da numero, per cui, se io faccio next line, entrerò all'interno del ciclo, ok? Ora, a questo punto, come faccio a vedere se il numero è primo? Questo l'avevamo già visto a suo tempo, cosa faccio? Faccio la divisione, quindi faccio numero diviso divisore, lo rimoltiplico per divisore, anzi lo rotondo, numero diviso divisore, lo rotondo, per evitare la virgola, lo rimoltiplico per divisore, e controllo se è uguale a numero, perché in questo modo vuol dire che la divisione è piena, no? Non c'è resto. E qui faccio esattamente la stessa cosa, solo con la sintassi del C, se numero è uguale a numero diviso divisore per divisore, vedete che qui non c'è più il round, perché questi li abbiamo dichiarati come interi, quindi sono per definizione interi, ok? La cosa importante è questo uguale, vedete che qui su Snap c'era scritto if numero uguale, e qua c'è scritto if numero uguale uguale, perché? Perché dentro Snap il test si fa con un uguale solo, e l'assegnazione si fa con questo blocchetto set, mentre qui l'assegnazione si fa per esempio scrivendo divisore uguale numero, mentre il test si fa con due uguali, notate che anche Python fa così, e questo è un classico errore che fanno poi le persone quando programmano in C, all'inizio naturalmente poi uno si abitua, non lo fa più. Quindi facciamo un esempio, allora noi abbiamo che numero vale 5, divisore vale 2, 5 diviso 2 fa 2,5, o per meglio dire fa 2, perché questa è una divisione tra interi, 2 per 2 fa 4, numero vale 5, 5 uguale a 4? No, ok? Quindi io questo lo scavalcherò, quindi vedete io vado avanti di 1, e vedete che io l'ho scavalcato, e sono finito anziché nel ramo if, nel ramo else, dove faccio divisore più più, questa è la sintassi tipica del C, e significa divisore uguale, divisore più 1, notate che io nel redigere il codice C, ho rispettato il codice Snap, quindi vedete che qui era, se è così, faccio numero primo a no, e va bene, ma non è capitato a noi, altrimenti aumento di 1 divisore, ok? Bene, procediamo, allora, siamo qua, quindi divisore più più, adesso divisore vale 2, notate che il triangolino giallo significa che divisore non è ancora stato aggiornato, lo sarà appena io premerò qua, vedete adesso è diventato 3, lui me lo segna in rosso perché è stato aggiornato, adesso, numero vale 5, divisore vale 3, andiamo avanti, next line, entra, poi cosa fa? Fa numero 5 diviso 3, fa qualcosa, che però rimoltiplicato di sicuro non è intero, e quindi questo è di nuovo sbagliato, allora andiamo avanti, divisore più più, 4, è ancora diverso, perché 5 è diverso da 4, andiamo avanti, allora, 5 diviso 4 per 4 non fa certo 5, quindi facciamo così, e facciamo ancora così, vedete a questo punto numero e divisore valgono tutti e 2 e 5, quindi se divisore è uguale a numero, questa condizione è falsa, ok, e quindi questo while finisce, quindi io vado avanti così, e vedete che lui è andato giù, ok, è andato giù, ora, che cosa fa lui? Controlla se numero è primo, se numero è primo stampa il numero è primo sì, altrimenti, if, then, else, altrimenti stampa che il numero è primo no, ok, questo per inciso è quel return di cui vi parlavo prima, quando avevamo visto il raspberry, ok, questo 0, era quello che si poteva visualizzare, e che in quel semplicissimo programmino assembly era 2, ok, stessa cosa, ora, ma questo è solo un dettaglio, se numero è primo, come faccio a sapere se il numero è primo? Il numero è primo, perché, io qua ho scritto, che, qui all'inizio, ho assegnato 1 a il numero è primo, e in C, una variabile intera, cui è dato un valore diverso da 0, è vera, indica valore vero, ok, non esistono le variabili booleane in C, però, si vengono considerate in questa maniera, non almeno nel C base, ok, quindi, però, com'è che potrebbe capitare diversamente, quando, questa divisione viene giusta, a questo punto, vedete che mi compare il numero è primo 0, quindi significa che il numero non è primo, perché se è falso dire che il numero è primo, ovviamente il numero non è primo, e a questo punto, vedete che io qui vado giù, il numero è primo, quindi, ovviamente, se il numero è primo è uguale a 1, cosa che vera, perché l'abbiamo messo prima, faccio così, e lui entrerà, vedete che è entrato all'interno del ramo, a questo punto, stampa con la printf, se voi andate qui, e andate a guardare, vedete che lui ha stampato, quello che doveva stampare, ok, volevo però farvi vedere ancora una cosa, perché adesso se io do ancora, un premo di nuovo, vedete questa è l'ultima istruzione, quella che serve appunto, come vi dicevo, restituire il valore, però io vorrei farvi vedere ancora una cosa carina, allora, vedete qui noi abbiamo debug, dentro debug in window, ce ne sono svariate, la maggior parte di queste non vi interessano, per esempio i registri della CPU, certo non vi interessano, però, questa è la memoria, ok, e questa è molto carina, perché adesso vi faccio vedere, ecco vedete lo incastro lì dentro, ora, qui se volete ne potete anche aggiungere, no, altre variabili che non ci sono, e che le volete aggiungere, allora io, vi faccio farvi vedere una cosa carina, e cioè che il numero primo vale 1, ma dove è scritto che vale 1? È scritto in memoria, ok, allora vorrei farvi vedere, giusto così buttarla lì, come si fa a vedere che c'è scritto veramente 1 in memoria, ok, perché è scritto in binario, naturalmente, quindi non è così facile, allora, io qui voglio sapere dove è scritto in memoria, perché naturalmente la memoria è molto grande, e quindi ho bisogno dell'indirizzo della memoria, un po' come se io volessi sapere, se il Politecnico è in corso duca degli Abruzzi 24, oppure 81, ok, devo sapere quel numero 24, allora in C, me la butto lì, se io metto è commerciale, e poi ci scrivo il, aspettate, ingrandisco un po' perché sono qua, non vediamo niente, il numero, e naturalmente non ci sono accenti, eh, mi raccomando, niente spazi nei nomi delle variabili, niente accenti, perché sennò qui facciamo disastri, il numero è primo, vedete cos'è successo, lui mi ha aggiornato questa, adesso qui magari facciamo un po' di spazio, poi allarghiamo un po' bene, eccolo qua, questo è l'indirizzo, ok, non stiamo a sindacare come, però, io posso, copiarmelo, poi faccio, allora faccio copy, vado qua, vedete che questa è la memoria, quindi cancello questa cosa, e dove c'è scritto address, faccio paste, e ci copio l'indirizzo, ok, quindi questo significa, che quando io adesso faccio enter, lui mi mostrerà la memoria, a partire da quell'indirizzo, quindi io mi aspetto che nella prima locazione di memoria, disponibile che mi viene visualizzata, ci sarà la variabile il numero è primo, e mi aspetto di leggere uno, dentro quella variabile, ok, ora, vedete che qui, ovviamente devo spostare qua, vedete questo è l'indirizzo, come se fosse scritto, questo è la variabile, ok, ora, lasciamo perdere come è organizzata, perché la faccenda è più complicata, a me quello che interessava, era farvi vedere che qui dentro c'è scritto uno, ok, naturalmente l'esempio me lo sono scelto apposta, perché uno è molto facile da vedere, perché altrimenti qui sarebbe scritto, perché questi sono numeri esadecimali, quindi non sarebbe così facile da vedere, infatti vedete che il resto non è così facile da capire, però uno è facile, perché è sempre uno, ok, quindi, se io adesso do ancora, premo ancora qua, vedete che lui, termina, fa l'ultima finita così, il programma è finito, ok, bon, terminato, quindi essendo terminato, bon, ha completato il suo mestiere, quindi, in sostanza, ecco, adesso noi abbiamo visto, nella prima fase questo tragitto, questo lasciamolo perdere, nella seconda fase abbiamo visto questo tragitto, e grazie al debugger, notate che noi abbiamo usato il gdb, non l'abbiamo visto, perché è tutto nascosto dal codeblocks, però l'abbiamo usato, e noi abbiamo debuggato, cioè visto l'esecuzione, se durante l'esecuzione, ci fossimo accorti, che c'è un bug, cioè se c'è un errore di programmazione, avremmo potuto fermare l'esecuzione, correggere l'errore, come si fa a correggere l'errore? Bisogna fare un nuovo editing, ricompilarlo e rieseguirlo, finché il programma non funziona, quindi, diciamo che il vostro compito, nel corso di informatica, sarà quello di soddisfare questo tipo di, di diagramma, così come questo, uguale, quindi voi, editing, compilazione, debug, non funziona, si torna su, e così via, tipo gioco dell'oca, ok? Nel python è più semplice, perché per esempio il debugger è più complicato, non si vede, cioè quando lo vediamo, però è anche più semplice da gestire, perché è tutto tramite un interprete, ok? Allora, quindi, stavamo dicendo, quindi in sostanza, vi ho mostrato, per così dire, il codeblocks, nel suo più completo funzionamento, perché abbiamo visto, come le istruzioni si susseguono, cosa fanno, naturalmente in modo approssimativo, perché, attenzione, io qua non sono interessato, e comunque non potrei, per vari motivi, non sono interessato a spiegarvi come funziona il C, vi voglio solo fare, vedere delle cose, ok? Però, il codeblocks è molto importante, perché questo, essendo visto appunto come corso di azzeramento, è molto comodo, perché quando voi inizierete il corso, per esempio, avrete bisogno di usare il codeblocks, perché fin da subito si usa, con il C naturalmente, e qui potrete, guardate il filmato, e avete sottopio il funzionamento completo, ok? Quindi, a questo punto, io posso fare tranquillamente così, il programma è terminato, do I want to save it? No, francamente non è un problema, questo è il programma, notate che l'abbiamo sovrascritto su primo, ok? Ma questo è, se volete un dettaglio, notate che dov'è che è stato salvato questo programma, se voi andate qua sul terminale, allora, allora, voi dovrebbe essere sul desktop, quindi CD desktop, primo, dovrebbe essere qua, eccolo qua, se noi facciamo moremail.c, eccolo qua, vedete? Questo è il programma, perché noi in pratica abbiamo preso il programma standard di codeblocks, che abbiamo visto all'epoca, cioè con la classica sistema per cui uno crea un programma, eccetera, eccetera, quello che abbiamo visto durante la, mi sembra la seconda puntata, la prima, e lui realizza questo programma, dopodiché noi dobbiamo andare dentro a quel main.c e manipolarlo manualmente, inserendo il codice che ci serve, io qua ho fatto copia e incolla, per mia comodità, però potrei anche, avrei anche potuto scriverlo manualmente, una riga alla volta, certo non è comodissimo, ok? Quindi a questo punto il codeblocks lo possiamo chiudere, e qui, tra l'altro, vedete qui, vedete che mi dice done, codeblocks, effettivamente è terminato, dopodiché io qua, faccio cd punto punto, cd materiale, perché devo tornare dentro, eccolo qua, cd numeri primi, e sono tornato esattamente dove ero, ok? Quindi, in sostanza abbiamo visto tutto il lato del c, abbiamo visto che corrisponde a questo, c'è una corrispondenza non proprio bionivoca, ma molto simile, vediamo python, perché python, come vi avevo detto, è diverso, è interpretato, ok? Allora, noi qui abbiamo il nostro python, per esempio lo vediamo così, senza usare nano, vedete che è molto simile, è un po' più compatto, però è molto simile, vedete, leggo il numero, anziché la scanf, c'è la input, che è molto comoda, questa int serve a, diciamo, forzare l'intero, perché a noi serve uno dei numeri interi, poi, finché il numero, questo funziona esattamente come il c, l'unica differenza in python, è che in python non ci sono parentesi, graffe, e la formattazione è realizzata, spaziando opportunamente, ok? Quindi questo significa che qua ci devono stare quattro spazi, in realtà possono essere anche diversi da quattro, può essere 50, ma voi datemi retta, seguite questa regoletta aurea, e qui mettetene quattro, ok? Quindi ogni volta che vi spostate a destra, è come se questa indentazione indica una, diciamo, un livello inferiore, ok? quindi questo potrebbe essere livello 0, questo livello 1, quindi, anziché fare while, e poi qui mettere una parentesi graffa, e mettere all'interno la graffa, qui noi non mettiamo la parentesi graffa, semplicemente ci spostiamo a destra, notate che devono essere tutti perfettamente allineati, tutti quelli dello stesso livello devono essere allineati, ok? Quindi finché il numero è minore o uguale di 1, lui continua a chiedere il valore, ok? Poi mette divisore uguale 2, è uguale, il numero, ecco, se proprio vogliamo mostrare, primi.c, vedete che, qua c'è scritto while, vedete le graffe, ok? Poi c'è divisore uguale 2, e poi c'è scritto il numero è primo uguale a 1, e vedete che qui è diverso, perché in Python c'è il concetto di variabile, variabile logica, chiamata anche variabile booleana, vi ricordo che è una variabile, cioè in realtà ve lo dico, ma anche se dalle mie piccole statistiche, molti di voi l'hanno già visto, per vari motivi, alle superiori, comunque, una variabile logica, o anche detta variabile booleana, è una variabile che può assumere solo valore vero oppure falso, due o sole possibilità. Allora, in C non esiste, almeno nel C base, in Python sì, e vedete che naturalmente ci devo scrivere false con la F maiuscola, quindi il numero è primo false, e vedete che qui avevo scritto il numero è primo, dove l'ho messo? 1, ok? va bene, sì, ok, va bene, quindi cosa succede a questo punto? Io faccio, while divisore è diverso da numero, notate che è la stessa cosa, while divisore è diverso da numero, ok? Dopodiché io faccio la stessa cosa di prima, lo forzo, qui questo int serve a forzarlo, il numero è primo, falso, vedete? Eccolo qui, dove è? Eccolo qui, eccolo qua, vedete il numero è falso, qui era solo un'inizializzazione in realtà, il numero è primo falso, ok? Quindi, adesso noi andiamo qua, bene, siamo a posto, e altrimenti, vedete, else divisore uguale a divisore più 1, ok? Ora, il programma è lo stesso, facciamolo funzionare, allora, come faccio a farlo funzionare? Qui è interpretato, quindi lo devo lanciare per mezzo di un sistema, ok? Quindi io devo scrivere Python, in realtà ci sono, vedete, se io faccio tab, vedo che ci sono parecchi Python, perché ci sono varie versioni di Python, non interessa la versione 3, e poi facciamo una cosa del genere, per esempio qua ci metto 1, e poi ci metto 5, e vedete che il numero è primo, sì, se gli metto per esempio 4, mi dice che non è primo, va bene? Ora, il file è interpretato ogni volta, quindi non viene compilato, infatti, questo file, sul Macintosh funzionava, funziona tale e quale anche sotto Linux, ok? Funzionerebbe tale e quale anche sotto Windows, cambierebbe nulla. Però, io vorrei ancora farvi vedere una cosa importante, allora, se io faccio ls-la, vedete che io qua ottengo numeri primi punto py, e questi num, queste, queste lettere, non le abbiamo viste, ma r sta per capacità di leggere, read, w write, e qui in mezzo ci dovrebbe essere una x, che sta per esegui, execute, ok? Ora, questo file non è eseguibile, se io faccio una cosa del genere, vedete che, anche se faccio tab, non me lo riconosce, se anche io esagero, non ha dei problemi, vedete, mi dice permission denied, perché non ho il permesso di eseguirlo, ok? Però, se vi ricordate, io nella prima puntata vi avevo fatto vedere un file python, dove io facevo doppio clic su un'icona e lui partiva, allora, dove è il trucco? Il trucco è, che io ho un po' manipolato la faccenda, allora, come faccio? Innanzitutto io devo sapere, voglio sapere dov'è il python nel mio file system, il comando unix è which, che significa dimmi dov'è, ok? E lui mi dice che è in usrbin python3, va bene? Dopodiché io apro il mio numeri primi e qui faccio spazio in una riga, ci metto con una sintassi un po' particolare, ci scrivo con il punto esclamativo, ci scrivo usrbin python3, ok? Poi faccio ctrl x, sì, salvo, a posto, se io per esempio faccio more, vedete che effettivamente adesso c'è questa cosa qua, ok? E' una sintassi particolare, prendetela così com'è. A questo punto il file, quando io lo lancio da solo, automaticamente si lancia da sé questo, rimane sempre interpretato, però era il discorso dell'icona, io posso cliccare sopra lui parte, proviamo a vedere se funziona, continuo a non funzionare, ok? Perché non funziona? Perché Unix vuole che io gli dica che questo è eseguibile, quindi qui ci deve essere una x, ok? Ora, notate che questa è un po' una scocciatoia, però io ve la dico perché secondo me è importante. Allora, senza, non vi sto a tediare sul perché, se io faccio una cosa del genere, la x compare, questo significa cambia modalità, change mode, u, utente, perché questo è l'utente, più x, cioè aggiungi la x a numeri primi punto py. Se io adesso faccio ls meno la a, vedete che qui è comparsa una x, ok? Se io adesso faccio numeri primi punto py, parte da solo, ok? si chiama da solo l'interprete python e funziona correttamente, ok? Quindi, in sostanza, per tornare al discorso, noi abbiamo il code blocks che fa tutto, ok? Gestisce tutto, tutto in automatico, fin troppo in automatico, perché il problema che emerge nel corso di informatica è che la gente è talmente abituata ad usare il code blocks che si dimentica ai passaggi intermedi, è per quello che ho insistito moltissimo, ok? Nei linguaggi tipo python il meccanismo è diverso, io devo editarlo con un editor e poi eseguirlo tramite interprete. C'è anche questa piccola, questo scamotage che vi ho fatto vedere, che vi permette di lanciarlo come questo, anche se non è un eseguibile a tutti gli effetti, perché comunque è un file interpretato. Vi ricordo che interpretato significa che tutte le volte che io lo lancio, un programma che è appunto il python 3 provvederà a leggere il file, capire cosa vuol dire riga per riga ad eseguirlo. Se la stessa riga è presente più volte nel file, lui cercherà di capirla più volte. Vuoi capire che questo sistema fa sì che sia molto più lento. In realtà non è così più lento per tutta una serie di motivi tecnologici, però è sicuramente più lento. Comunque python ha altri vantaggi, non questo, perché poi volendo si può trasformare in C, si possono fare un sacco di cose, però non sono certo il scopo di questo corso di azzeramento. Quindi, codeblocks, complessivo, flusso, e invece flusso, più semplice, relativo a python. Ok? Bene. Allora, quindi, questo significa che abbiamo visto il programma sui numeri primi. Ok? Sto soltanto controllando di aver fatto quello che dovevo fare. Allora, adesso procediamo e andiamo a vedere rapidamente anche gli altri. Ok? In modo tale da completare questa puntata. Bene, quindi i numeri primi li abbiamo visti tutti. Andiamo sull'esempio del campo di esistenza. Ok? Perché il caso del campo di esistenza è molto importante per vedere le variabili logiche booleane. Ok? Praticamente quello è lo scopo per cui ho insistito tanto su questa cosa. Allora, adesso siamo sui numeri primi. Facciamoci di punto a punto. Andiamo su funzione. Campo esistenza. Bene. Cut. Eccolo qua. Questo è il programma. molto semplice. Andiamo a vedere l'equivalente in C. CD punto punto CD funzione campo di esistenza cat funzione campo di esistenza. Ok? È più lungo ma in realtà è più lungo perché vedete io ho messo tantissimi commenti. Ok? E questi tantissimi commenti sono legati al fatto che in snap per esempio le variabili non vengono dichiarate. ecco, naturalmente carichiamolo anche di qua. Quindi io faccio new e poi faccio import della funzione campo di esistenza. Ecco qua. Vedete che in realtà è molto semplice perché semplicemente calcola il valore di y dato il valore di x. l'unico problema era che noi volevamo evitare di calcolare il valore di y quando x non è accettabile cioè non è all'interno del campo di esistenza. Allora il trucco qual è? Quello che voglio farvi vedere veramente adesso. Se voi andate a guardare qui il c è molto simile vedete qua dichiaro le variabili che qui non sono richieste e poi faccio la richiesta cioè leggo il valore e poi il vero trucco è tutto qua no? E' questo while allora se voi andate a guardare qui la condizione era questa qui ok? Qui ho dovuto metterci il not davanti in c il not si scrive così l'end si scrive così e questo è l'or ok? Poi dopodiché leggo un'altra volta il numero questa è la funzione capirete che non è niente di speciale log è logaritmo naturale e poi questa è la printf che stampa nulla di che la cosa importante è questo not qua e questo not qua è dovuto al fatto che qui avevo un repeat until mentre qui ho il while che funziona come nel piangetto più volte in modo opposto se invece andiamo a vedere su python è più semplice più che altro perché appunto ci sono molti meno commenti però io qua vedete devo importare da una libreria matematica la radice quadrata il logaritmo ma sono cose ovviamente importanti ma non in questo nel nostro caso vedete che io leggo in input lo faccio diventare un floating point poi vedete che qui è come il c quindi di nuovo while però il not non si scrive punto schermativo si scrive not l'end non si mette due volte commerciale si mette end e l'or anziché due bacchette verticali che si chiamano pipe si mette si scrive or poi bisogna ricordarsi due punti qua e bisogna ricordarsi che tutto quello che sta dentro il while non ha delle graffe ma bisogna andare a destra di quattro spazi e legge di nuovo e poi alla fine calcola se ci pensate è molto molto simile al c ok in effetti è molto molto simile quello che conta è che questo è esattamente come quello del c ok ora però voglio farvi vedere che cos'è questo not perché altrimenti messo in questa maniera sembra non tanto chiara e invece è molto importante perché le variabili booleane sono molto importanti allora andiamo a prendere ecco qua questo è grosso modo quello che avevamo visto la volta scorsa bene allora allora guardate qua datemi toccò un po' fuoco è a posto allora questo è il campo di esistenza quindi la funzione esiste qua e qua ok quindi questo è il campo di esistenza quindi questo significa che noi dovevamo dichiarare con le variabili booleane x maggiore uguale scusate maggiore di meno 2 e x deve essere minore di meno 1 minore uguale perché il 1 è valido minore uguale di meno 1 e anche in unione x maggiore di 0 ok questo è il campo di esistenza questo è questo allora questa era la condizione da mettere dentro al repeat until ok la condizione da mettere dentro al while come abbiamo detto è il not di questo cioè il contrario allora diciamo che in nell'algebra booleana le variabili possono appunto essere vere oppure false e poi ci sono sostanzialmente tre operatori logici booleani che sono l'end l'or e il not il not voi capite che nega fa il contrario cioè una cosa vera diventa falsa e così via ok poi abbiamo l'end l'end in italiano si potrebbe tradurre con e quindi due cose devono essere ambedue vere poi queste cose le vedrete meglio nel corso naturalmente l'or significa che possono essere vere tutte e due oppure anche solo una delle due va sempre bene notate che per vostra curiosità nel linguaggio giuridico la faccenda è più delicata e in particolar modo questo lo so perché mi era capitato di vederlo se voi trovate ovvero in linguaggio giuridico ovvero normalmente nel linguaggio comune è un modo per spiegare per dire fa 5 più 3 ovvero 8 una cosa del genere nel linguaggio giuridico ovvero indica che ci sono due possibilità mutuamente esclusive disgiuntivo quindi deve essere o la prima o la seconda non tutte e due vere ok disgiuntivo nel linguaggio dell'algebra booleana notare che booleana deriva dal signore che inventò questo sistema che si chiama bull questo ovvero del linguaggio giuridico si chiama exor cioè ore esclusivo però finisce lì ve l'ho solo buttata lì ok bene a questo punto noi abbiamo and ore not benissimo allora il nostro problema qui è fare il not di questa cosa qua allora proviamo a fare il not di questa cosa allora io come posso fare a fare il not prendiamo con il rosso così si capisce meglio allora io posso fare per esempio questo ok e ora questo qui che cos'è x minore uguale di meno 2 ok poi ho bisogno di prendere tutto quello che va da questa parte perché notate che io voglio questo e questo e qua ci scrivo x maggiore di 1 ok dopodiché però non va bene perché io prendo anche questo che non voglio io voglio solo questo allora io cosa devo fare faccio ancora così e poi questo lo faccio andare al contrario da questa parte e qua ci scrivo x minore uguale di 0 ora io cosa devo fare dovrei fare una cosa del tipo x minore uguale di 2 or x maggiore di 1 quindi o questo o questo o anche tutti e due beh ovviamente tutti e due non è possibile però potenzialmente sì end x minore uguale di 0 perché deve essere anche vero che x è minore di 0 perché in questo modo se noi prendiamo questo insieme più questo e lo mettiamo in intersezione perché l'end ha fatto un'intersezione con x minore uguale di 0 il risultato sarà questo e questo e guarda caso è proprio quello che noi volevamo cioè il not del totale ok ora andiamo facciamo una cosa diamo dei simboli allora qui era x maggiore o uguale di 2 end x minore o uguale di meno 1 or x maggiore di 0 ok se noi chiamiamo x maggiore o uguale di meno 2 A lo chiamiamo A questo lo chiamiamo B e questo lo chiamiamo C l'espressione diventa così ok ora come verrà questa espressione verrà una cosa del tipo questo che cos'è questo è A negato questa barretta sopra significa che negato cioè NOT A ok però qui c'è scritto OR poi questo qui x maggiore di 1 e B negato ok perché in effetti B è minore o uguale di 1 maggiore di 1 è proprio l'opposto poi le parentesi ci sono poi AND x minore o uguale di 0 e C negato quindi questo significa che questa è la negazione di questa ok ora io ve l'ho buttata lì in realtà per quindi perché ve l'ho buttata lì perché per farvi capire che questo tipo di espressioni booleane hanno un'utilità pratica a livello di programmazione che è molto più consistente di quanto uno non pensi ma la cosa interessante è che questa espressione questa espressione o per meglio dire questa espressione si può ottenere da questa con un teorema che si chiama teorema di De Morgan ok e sostanzialmente il teorema di De Morgan dice che se io ho questi due pezzi per esempio io ho due pezzi ad esempio scriviamolo pure qua momentaneamente io ho A OR B ok e ne voglio la negazione la negazione mi diventa A negato AND B negato in pratica io trasformo l'OR in AND e nego i due ok applichiamolo a questo caso allora questo diventerà siccome questo è un pezzo unico quindi mi diventerà A AND B negato AND C negato ok riapplichiamo De Morgan su questo e quindi mi verrà A negato OR B negato e che se ci fate caso è esattamente questo ok ora io ve l'ho solo detto perché le variabili booleane poi le vedrete nel corso sono importanti non sono per niente difficili ok questa è la cosa forse più complicata di tutta la parte sull'algebra booleana e secondo me non è complicata però io vi ho fatto questo esempio del campo di esistenza perché in modo tale da essere molto chiari ora proviamo ad andare a vedere il nostro codice qui sblocchiamo questo che è andato bene allora vedete che qui c'è scritto NOT e anche qui c'è scritto NOT va bene non c'è problema però io ho preparato una versione apposta e l'ho chiamata funzione demorgan no dal nome ovviamente io faccio cat funzione del campo di esistenza poi faccio la stessa cosa in python ecco allora per esempio guardiamolo in python perché in realtà in c è la stessa cosa non cambia niente l'unica cosa che cambia è il modo in cui vengono chiamati gli operatori ok guardiamolo in python se voi ci fate caso vedete che qui era questa era la condizione questa era la condizione iniziale però io qua ho bisogno del NOT perché il while è diverso dal repeat e vedete che viene esattamente quello che noi volevamo x ah sì ovviamente qui avevo scritto minore di 2 ma era minore o uguale di meno 2 naturalmente or x maggiore è anche il meno 1 non so perché però mi era rimasto nella penna or x maggiore di meno 1 and x minore o uguale di 0 ok quindi questa è la condizione questa condizione qua semplicemente con il NOT ok quindi questa è se vogliamo la parte sui campi di esistenza che io ho usato come per così dire scamotage per farvi vedere le variabili booleane un po' più nel dettaglio ok bene allora procediamo quindi abbiamo visto la parte sui campi di esistenza quindi a questo punto l'esempio successivo da fare era quello sull'errore ok eccoci qua allora l'errore tenete conto che abbiamo quasi terminato la puntata ora torniamo indietro allora cd errore cat python poi invece andiamo anche sulla parte del c cd punto punto cd errore cat errore ok allora poi lo carichiamo anche qui dentro new errore eccolo qua questo è probabilmente indievamente diverso da quello che abbiamo visto a lezione ma ovviamente è lo stesso ok bene allora qui il nostro problema qual era? era che vi ricordo che lo 072 non era presentabile in binario con un numero finito di cifre e questo fa sì che induca un errore da livello numerico per cui questo 328 non è un 328 esatto e quindi non essendo un 328 esatto questo if non funziona e quindi non riconosce che questo è un 328 e dice che non vale 328 quando invece dovrebbe valere come 328 ok la differenza è molto piccola ovviamente ora io qui ho fatto la stessa cosa in c e poi in python allora questo è l'esempio del c vedete lo prende come long double long double è come dice ovviamente long è a molte cifre decimali a disposizione per farvi vedere che anche se io ho tante cifre il problema non scappa non si scappa ok ora anche qui dice se il numero vale 328 mi dice che vale 328 esatti altrimenti no e mi dice quanto vale e me lo mette su 50 cifre ok poi provo anche a fare il calcolo con meno precisione come float ok allora vedete che anche qui se io faccio appunto out ovviamente mi dice che non parte quindi io devo fare devo compilarlo ok appunto out eccolo qua allora vedete che sostanzialmente il numero 072 vale in realtà su 50 cifre vedete il problema dopo un bel po' di 9 compaiono delle altre cifre quindi non vale 328 328 per un bel po' di cifre poi non compare più con il float l'errore è maggiore vedete che compare una cifra prima andiamo a vedere su Python allora il pezzo in Python è un po' più raffinato perché io ho importato una libreria che serve a convertirle diciamo a lavorare anche in basi non la base 10 adesso non stiamo a vedere i dettagli quello che conta è che con questa libreria io ho codificato lo 072 in binario non vi sto a spiegare come funziona ok come fare a fare queste conversioni le vedrete poi nel corso ma comunque insomma non è che c'è stato quello il problema vi faccio vedere mille cifre binarie così vediamo che cosa succede ok dopodiché rifaccio il conto e vedete che mi dice che se è uguale a 328 veri mi dice vero ok ovviamente non lo sarà così inoltre ho usato anche un'altra libreria che mi va a fare i conti con i numeri decimali perché perché noi abbiamo c'è un problema abbastanza serio perché questo problema è molto grave dal punto di vista per esempio dell'ingegneria gestionale perché se io se io usassi un programma del genere per fare i conti che mi vanno a gestire i programmi che fanno la gestione della borsa borsa valori ogni volta che io faccio una transazione in borsa a causa degli errori di arrotondamento io potrei avere delle piccole differenze sono piccolissime ma siccome il numero di transazioni in borsa è elevatissimo dopo un certo periodo di tempo io potrei creare o distruggere denaro cosa che chiaramente non garba molto ok allora di solito si usano per fare questi calcoli delle librerie che permettono di fare i calcoli cosiddetti esatti come fanno a fare i calcoli esatti li fanno lavorando in decimale perché anche in decimale ci sono dei numeri non rappresentabili per esempio un terzo non è rappresentabile però se io faccio i calcoli come li faccio con la penna a quel punto dal punto di vista gestionale non ci sono più problemi perché le sottrazioni vengono giuste esattamente come mi vengono con la penna perché io qua è impossibile che in un bilancio io abbia un terzo di euro ok avrò 3,28 euro 3,33 euro ma mai un terzo di euro ok è impossibile mai 0,3 periodico bene allora proviamo a lanciare questo programma qui ovviamente lo dobbiamo lanciare con l'interprete si chiamava eccolo qua molto bene allora guardate qua questo è divertente perché allora vedete che qui ho rappresentato qualcosa come mille cifre allora vedete che la periodicità è evidentissima perché il terminale largo 80 caratteri e si verifica molto si vede molto bene che è periodico in particolar modo il periodo è periodo 20 se vi mettete lì lo calcolate lo contate è periodo 20 poi il valore non è 3,28 il valore reale è questo qua che se andate a guardare è lo stesso del C se usate quest'altra formula meno precisa anzi questa è un po' più precisa questa è meno precisa avete lo stesso errore in pratica i numeri sono gli stessi del C perché sono gli stessi del C perché chi fa i conti è l'unità numerica del processore che naturalmente fa i conti sia in Python che in C perché non è che cambi se voi volete risolvere il problema dovete usare questa libreria apposita decimale che lavora in questo caso su un numero di cifre a piacere ma in realtà a noi non servono tante cifre per scopi gestionali ce ne bastano due perché di solito si arriva solo fino al centesimo di euro però deve fare il conto esatto e allora in effetti se voi fate così vedete che è 3,28 poi io lo rappresento con tutte le cifre che vogliono ma sono sempre tutti zeri ok quindi se siete interessati cercatevi questa libreria guardatevela però è interessante questo significa appunto che per applicazioni gestionali è vitale evitare questo tipo di errori perché naturalmente provocherebbe dei disastri veri e propri quindi allora abbiamo visto anche la parte sugli errori ci rimane un ultimo esempio che è quello del fattoriale allora il fattoriale l'abbiamo già visto però vi voglio far vedere ancora una cosa che secondo me è interessante allora facciamo come abbiamo detto prima quindi indietro di 1 cd fattoriale vedete che qua ce ne sono un po' di fattoriale c'è fattoriale iterativo for while e ricorsivo allora cominciamo col caricarlo di qua allora new poi carichiamo il fattoriale qua di fattoriale ce n'è uno solo anche se in effetti con snap 5 potremmo anche usare il for comunque fattoriale iterativo ok questo è il fattoriale iterativo vedete che usa un repeat until ok bene adesso andiamo a prendere di qua il abbiamo preso l'iterativo allora abbiamo due possibilità while o for allora qui dentro a snap usiamo il repeat until e poi volendo nello snap 5 abbiamo anche il for qui abbiamo usato solo il repeat until fino adesso abbiamo usato il while dalle altre linguagge abbiamo visto che il while ha la condizione girata al contrario quindi vediamo qua procediamo qua eccolo qua dopodichè andiamo a prendere il c cd iterativo while allora si chiama eccolo qua anche qui ci sono molti commenti però se voi andate a guardare il codice gli date una sbirciata la parte veramente importante è questa while contatore diverso da 1 se voi andate a vedere qua c'è scritto repeat until contatore uguale a 1 ok notate che qui c'è scritto uguale a 1 ma è da leggersi in c e in python come uguale uguale a 1 molto importante questo è un classico errore mentre questo per esempio sarebbe numero uguale a 1 ok bene e infatti è qua vedete numero uguale a 1 qui c'è l'if dentro al python è tutto molto simile però non ci sono le parentesi qui ci sono i quattro spazi di formattazione if i due punti lì i due punti lì l'else qui abbiamo due livelli di indentazione perché questo while fa parte dell'else e queste due istruzioni fanno parte del while ok tutto lì allora la cosa interessante compiliamo il fattoriale allora gcc fattoriale iterativo lo lanciamo gli diamo un numero per esempio 5 e fa 120 andiamo su questo gli diamo il ovviamente lo dobbiamo chiamare con questo sistema gli diamo 5 anche qua e fa 120 ora la cosa interessante è proviamo con un numero più grande e proviamo anche qua allora qui gli diamo un numero un po' grosso 13 il numero è bello grande ok è questo numero qua bene andiamo a vedere qua in python e ci mettiamo 13 il numero è lo stesso andiamo a guardare in c ci mettiamo 13 e il numero è un altro è successo qualcosa allora questo è un grosso problema perché come vi ho detto i problemi aritmetici incidono molto pesantemente se voi non avete la piena conoscenza piena avvertenza si direbbe del fatto che state commettendo un errore rischiate di fare dei pasticci con i vostri programmi e non ve ne accorgete neppure perché se voi non sapete quanto fa il fattoriale di 13 magari questo numero è pure sensato ok quindi se voi realizzate un programma di simulazione per la vostra tesi e questo commette degli errori e voi non sapete qual è il risultato perché ovviamente di solito non lo sapete perché se no non scriverete il programma avete un'idea naturalmente ma non lo sapete con precisione e questo commette degli errori e non avete il risultato avete soltanto un pasticcio ok quindi è per quello che è molto importante quello che vi sto mostrando qua serve per farvi capire che il computer ha delle fortissime potenzialità ma avete bisogno di sapere esattamente cosa è capace di fare e soprattutto cosa non può fare che è più importante di cosa può fare perché cosa può fare bene o male è facile cosa non può fare certe volte è molto subdolo molto subdolo e questo è un classico esempio quindi questo 13 genera dei problemi ma vi dirò di peggio allora adesso noi qua ci mettiamo 18 viene un numero negativo ora questo cosa è dovuto è dovuto a come sono immagazzinati i numeri interi all'interno della macchina sono immagazzinati in complemento 2 ovviamente non stiamo qui a vedere perché lo vedrete nel corso però è un problema molto serio perché già l'altro ha sbagliato questo è addirittura negativo ok proviamo qua con il 18 allora ci mettiamo 18 ecco questo ha funzionato ok perché questo perché Snapple usa i modi scusate i numeri in virgola mobile che porta con sé i problemi dello 072 non viene gratis vediamo Python proviamo con Python e ci mettiamo 18 ora Python ha funzionato ok quindi Python è evidente che usa dei numeri interi più robusti molto più robusti di quelli che usa il C quindi questo significa che in C potremmo ottenere la stessa cosa perché naturalmente Python di fatto si appoggia però dovremmo cambiare il tipo di numero intero esageriamo ok ho fatto questo piccolo esperimento ci metto 200 il numero viene mostruoso ok non sono sicuro che sia giusto però proviamo a metterlo qua qua dentro ci mettiamo 200 succedono pasticci ok e qua lui mi dice infinity vuol dire che lui non riesce a rappresentarlo ok proviamo in C e ci mettiamo 200 0 ok quindi per ricapitolare fate molta attenzione perché non appena uscite un attimo l'asseminato non è il caso del corso di informatica naturalmente io vi dico queste cose perché vi servono per ovviamente per la vostra carriera universitaria e poi anche successiva fate molta attenzione perché i computer sono realizzati da persone e quindi se voi si comportano come sono stati programmati se o ci sono errori di programmazione oppure voi li usate in un modo non consono questi rispondono come devono rispondere ma se voi date per scontato e rispondono nel modo giusto prendete delle cantonate terrificanti ok quindi bisogna stare molto molto attenti e l'unico modo per stare molto attenti è sapere come funziona perché nel momento in cui voi sapete come funziona sapete anche che certe cose si possono fare e certe altre cose non si possono fare ok bene quindi qui più o meno abbiamo visto tutto ah sì allora questo è l'iterativo col while ok vi faccio vedere molto brevemente il quello iterativo con il for iterativo con il for ecco qua allora facciamo così mettiamoli a confronto ecco qua allora vedete che qui noi abbiamo questo è quello con il for e questo è quello con il while giusto per farvi vedere la cosa cambia cambia questo while qua che qui è un while e qui un for notate che in c anche si usa il for il for si usa quando avete bisogno di selezionare un numero ben preciso di iterazioni e nel fattoriale lo è perché sapete in anticipo quanti sono il while quando non lo sapete volevo solo farvi vedere che ci sono queste due possibilità vedete in fortan in scusate in python viene for contatore in range potete metterci range numero meno uno fino a uno a passi di meno uno quindi partite per esempio da cinque poi quattro poi tre poi due e poi vi fermate perché l'uno non è più valido ok cosa del tutto analoga in c allora fattoriale iterativo for eccolo qua vedete il for in questione è questo ha una sintassi un po' diversa ma sostanzialmente è molto simile a quello di python ok almeno in questo in questa accezione bene per terminare ci manca ancora una cosa che non avevamo ancora visto ed è per la precisione lo vediamo un po' rapidamente ed è la stessa cosa però fatta in modo ricorsivo ok allora la vediamo innanzitutto in snap perché snap è un linguaggio che diciamo che è un ambiente che sembra un giocattolo ma in realtà è potentissimo allora questo adesso lo buttiamo via anzi facciamo così diciamo così diciamo new speriamo che vada a una buona velocità perché purtroppo essendo via rete potrebbe essere piuttosto lento allora diciamo così poi vado a prendermi un stop lo metto qua ok poi per farla breve io qua anzi questo lo metto qua bene allora come funziona il fattoriale allora se vuoi vado a recuperare il vecchio foglio eccolo qua vedete il fattoriale di n è fatto così ma se voglio lo leggo anche così cioè il fattoriale di n è uguale a n per il fattoriale di n alla meno 1 e il fattoriale di n meno 1 sarà n meno 1 per il fattoriale di n meno 2 e così via ok questo apre la strada a un approccio cosiddetto ricorsivo e adesso vediamo come fare allora io cosa faccio definisco una funzione allora in snap le funzioni sono piazzate qui dentro faccio così faccio make e block poi ci sono vari tipi di funzione il nostro tipo di funzione è il cosiddetto reporter perché si chiama reporter perché restituisce un valore io voglio che restituisca un valore perché questo valore è il fattoriale chiamo la funzione fattoriale fattoriale ok boh vedete lui mi apre un loro lo chiamano block editor perché questa funzione è una specie di sotto insieme ok lo allargo un po' questa funzione deve avere un parametro e cioè il numero di cui calcolare il fattoriale ok quindi clicco lì sopra input name qui faccio così deve essere un numero e lo chiamiamo n che è il nostro numero faccio ok e vedete che lui mi mette il nome n e poi quel segno di diesis sta per numero allora come funziona questa funzione fattoriale allora io ho bisogno di avere un if if the else che metto qua e lo incastro subito vedete purtroppo è molto lento quando quando è via rete però non so come altro fare faremo anche collegarci non via rete però allora noi facciamo se n è uguale a 0 devo restituire 1 allora questo qui lo copiamo e poi lo andiamo a incastrare qua dai su ok purtroppo è molto lento quindi poi qui dobbiamo fare se il numero è uguale a 0 come facciamo ad andare a vedere se il numero è uguale a 0 andiamo a prendere un test dai su no vediamo se si sblocca mamma mia quanta pazienza allora mentre lui si decide a fare qualcosa io di qua vado a prendermi ah ma si è proprio bloccato tutto fantastico sì è successo qualcosa vabbè l'unica possibilità è aspettare che si sblocchi anzi sapete che vi dico non voglio aspettare che si sblocchi e facciamo così tanto il materiale ce l'abbiamo anche qua ah si è sbloccato ecco vedete appena uno minaccia perché con le buone si ottiene sempre tutto allora eh però così non si va avanti andiamo qua allora sapete che vi dico lo faccio vedere direttamente tanto l'avevo stampato vabbè allora stavo dicendo dentro non tanto dentro snap ma volevo farvi vedere in python quindi noi andiamo a vedere dentro a fattoriale ricorsivo questo qui lo apriamo con per esempio text edit è un file di testo naturalmente eccolo qua vedete come funziona allora sostanzialmente io devo definire una funzione questa è il modo con cui si definisce la funzione in python anche qui naturalmente i 4 caratteri qui diventano 8 eccetera eccetera e questa funzione è se n vale 0 notare il doppio uguale restituisci 1 altrimenti restituisci n per il fattoriale di n-1 quindi significa che il chiamo chiama se stessa e questa chiamata cosiddetta ricorsiva va avanti finché non si passa da questo sottopezzo ok tutto lì dopodiché io qua leggo il numero e chiamo la funzione fattoriale di numero ok stessa cosa in c allora andiamo ancora indietro di 1 fattoriale ricorsivo eccolo qua perfetto eccolo qua allora vedete che questa è la funzione se n è uguale o uguale a 0 ritorno 1 notate che è molto simile a questa vedete molto molto simile quindi se n è uguale o uguale a 0 ritorno 1 altrimenti il ritorno n per il fattoriale di n-1 ok poi la funzione in python conviene anche se non è obbligatore definirla all'inizio perché essendo interpretato la funzione è bene che sia all'inizio così quando voi la usate è leggibile altrimenti non funziona in c la faccenda è diversa perché serve la definizione del prototipo e poi serve la dichiarazione della funzione è un po' diverso comunque anche questo lo vedrete nel corso dopodiché io quando chiamo la funzione la chiamo così fattoriale di numero vediamo se per caso qua si è sbloccato allora sì sembrerebbe di sì allora questa cosa qui lo vado a mettere lì è solo che è terribilmente lento perché presumibilmente ha una cattiva interazione con ok no ma no vabbè andiamo avanti con questo ok per quanto riguarda il blocchetto finale io ho il piano B questo è il piano B bisogna dire che il computer ad essere onesti è molto sovraccarico e quindi eccolo qua il piano B allora questa è la definizione fattoriale ok e questo è il nostro blocchetto vedete quindi se n uguale a 0 report 1 altrimenti report n per il fattoriale di n-1 e poi la funzione che chiama è semplicemente questa legge il numero poi setta il valore ad ansvair vabbè e poi questo serve solo questa è la join che serve solo per stampare quindi niente di di che ok e poi stop ora vediamo se si è sbloccato no non si è sbloccato per cui sostanzialmente con questo direi che abbiamo finito la ricorsione è molto importante perché può risolvere certi problemi in modo molto elegante anche se è di fatto equivalente all'approccio non ricorsivo ok bene direi che io adesso qui attenderò con pazienza che si sblocchi andiamo qua per cui la puntata 4b termina qua e grazie e ci risentiamo per la puntata numero 5 qui